Buongiorno da WTV News. Oggi, 22 agosto, è Beata Vergine Maria Regina. L'Assemblea Generale ha deciso di disegnare il 22 agosto come giornata internazionale per commemorare le vittime di atti di violenza basati sulla religione o sul credo. La difesa di questi diritti svolge un ruolo importante nella lotta contro tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o sul credo. Il dibattito aperto, costruttivo e rispettoso delle idee, così come il dialogo interreligioso e interculturale, a livello locale, nazionale, regionale e internazionale, possono svolgere un ruolo positivo nella lotta contro l'odio religioso, l'incitamento e la violenza. Inoltre, l'esercizio del diritto alla libertà di opinione e di espressione e il pieno rispetto della libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni possono svolgere un ruolo positivo nel rafforzamento della democrazia e nella lotta contro l'intolleranza religiosa.